Il tuo consulente Agrometeo ti dà benvenuto su Angro Notizie, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni e con tendenza fino a 15 giorni. Quattro perturbazioni con eventi interessanti, l'inverno sembra dare il meglio di sé proprio in questa fase, del resto l'inverno inizia il primo di dicembre, quindi siamo in perfetta sintonia. Allora, quattro perturbazioni, una prima perturbazione tra l'1 e il 2 di dicembre, quella giunta giovedì, porterà piogge al centro nord, ma l'aspetto interessante di questa perturbazione è che è seguita da aria fredda polare, la quale genererà tra il 2 e il 3 un cuscinetto di aria molto fredda in Valpadano. Tant'è, tra il 4 e il 6 arrivano due perturbazioni che porteranno piogge al centro sud soprattutto, ma queste correnti di libeccio che accompagnano queste due perturbazioni, scorrendo al di sopra del cuscinetto di aria fredda presente in Valpadano, daranno luogo a nevicate fino a quote molto bassi, abbondanti sulle Alpi e possibile nevicate anche in pianura su Piemonte, Lombardia, Piacentino e Parmense. Una terza fase tra il 7 e il 10 di dicembre, quando venti miti atlantici porteranno piogge su quasi tutta l'Italia, ma soprattutto al centro nord, con debole nevicate sulle Alpi oltre 1.000-1.500 metri. Poi ci sarà un'ulteriore fase tra l'11 e il 15, ritorno a un'alta pressione e quindi bel tempo tra l'11 e il 15 di dicembre. Per quanto riguarda le piogge, fino al 9 di dicembre, le piogge accumulate in queste 9-10 giorni, vedete che saranno super abbondanti. Dove vedete il giallo significa superiore a 100 mm, il magenta significa che siamo quasi a 150 mm, quindi attenzione potrebbero esservi nubi frangi in quelle aree, quindi piogge molto abbondanti sul Triveneto, sul Levante Ligure, sulla Campania. Bene, ritengo di avervi detto tutto. Un caro saluto, Mario Giuliaci.